musica musica eccoci con il popolo youtube con il calendario dell'avvento e oggi è il 12 dicembre andiamo ad aprire immediatamente eccolo qua oh 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 cosa è successo qua questo sarà del 24 una vigilia allora cosa abbiamo cherry lemonade non so non è che mi entusiasma tanto apriamo annusiamo non mi entusiasma tanto sinceramente acqua versiamo chiudiamo e shakeriamo ovviamente deve fare la solita schiumetta ecco qua voi guarda che colore ciliegia semplice carino la ciliegia si sente vorrei trovare alla fine sento un po' il limone ma non mi piace ma sapevo già che non mi sarebbe piaciuto e vabbè se trovate il link di instagram e twitter spollicciate fate casino fate quello che volete a domani bella ciao 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 ciao